Penultimo giorno di lavoro per agli azzurri di Antonio Conte in vista della sfida al Portogallo che concluderà di fatto la stagione 2014-2015 della Nazionale. Sul fronte formazione si va verso la conferma del 4-3-3, già visto all'opera in Croazia, con una novità sostanziale in avanti. Al fianco di El Sharawi ed Antonio Candreva girà infatti Ciro Immobile. La punta del Borussia Dortmund ha parlato in conferenza stampa del suo possibile ritorno in Italia. No, è normale che mi fa piacere l'appostamento di tante squadre, come ho letto. È normale che, essendo italiano, però l'anno prossimo bisogna fare, se è il cambio, bisogna fare una scelta importante perché c'è l'Oropeo ed è giusto che devo fare una stagione con quella dell'anno scorso per essere il gol d'Aronista.